I fondi ci sono, ma gli appalti non partono. Resta così, in un limbo di inoperosità, il problema legato alla viabilità del comprensorio sciistico della Maielletta, che anche nel fine settimana appena trascorso è andato in corto circuito per il boom di presenze di turisti e sportivi della montagna invernale. Sabato, la chiusura della strada che porta agli impianti di Passo Lanciano e Mamma Rosa, ha ribadito la necessità di sbloccare i lavori legati alla viabilità e alla realizzazione di nuovi parcheggi per gli avventori delle piste da sci, già inserito nel masterplan ma mai avviato. La questione è stata oggetto di un incontro che è stato convocato da Francesco Menna, presidente della provincia di Chieti, insieme, tra gli altri, al senatore del PD Luciano D'Alfonso. Noi, come Regione Abruzzo, abbiamo collocato per Passo Lanciano 22 milioni e 800 mila euro. Adesso serve il coraggio, che è il contrario della paura, nel determinare il completamento progettuale e la messa in cantiere di queste opere. E' assurdo. Il cardinale Martini di Milano avrebbe detto che è immorale, che ha risorse presenti e disponibili. A problema che c'è lì, che è intollerabile, perché non ci si può andare quando c'è la neve, non si fanno le opere. Che si sta aspettando per fare le opere? Che deve accadere? Che aumentino ulteriormente i prezzi delle voci economiche, come già sta accadendo? Oggi spiegheremo che è urgente organizzare le gare d'appalto, sia per quanto riguarda il riordino della viabilità, sia per quanto riguarda anche le strutture che gli operatori economici e i turisti attendono per Passo Lanciano. 22 milioni e 800 mila euro. Abbiamo anche concepito una viabilità statizzata, statalizzata, passata all'ANAS. Abbiamo concepito 9 milioni di euro per tutta la viabilità sottostante. Perché non appaltano? Qual è il livello di pigrizia che si sta impossessando di queste risorse? Francesco Menna, presidente della provincia di Chieti. Dunque, i fondi per risolvere il problema della viabilità e dei parcheggi sul comprensorio sciistico della Maielletta ci sarebbero, ma perché non partono effettivamente i lavori? Ad oggi la regione è silente. I sindaci si sono uniti, tutti i sindaci della Maielletta, in questa conferenza stampa. Si uniranno anche in futuro, unitamente al senatore D'Alfonso, per capire per quale motivo ancora si appalta, dove sono finiti questi soldi e per avere certezze. Certezze perché c'è un problema di ordine pubblico, di sicurezza, per dare risposte turistiche, per rendere migliore un punto di forza del territorio Chieti-Pescara, che è appunto la stagione sciistica della Maielletta e non solo, perché è un punto di riferimento turistico sempre. Quindi il nostro interrogativo sarà messo per iscritto e sarà chiesto alla regione di darci risposte quanto prima. Ma chi deve appaltare? Da chi dipende questa, diciamo, inattività? Vorremmo sapere anche questo e nel caso in cui la regione non ha capacità di appalto, di appaltare, siamo pronti a sostituirci come stazione appaltante, sia come provincia che come comuni. Grazie.